In occasione del centenario dell'Associazione Nazionale Bersaglieri è giunta in comune a Pordenone una nutrita delegazione di fanti piumati delle sezioni locali per accompagnare il medagliere del centenario e il libro della testimonianza lungo tutta la penisola. Questi due simboli che custodiscono la memoria dell'Associazione saranno poi conservati nel Museo Nazionale dei Bersaglieri di Portapia a Roma dove viene ricordato l'estremo sacrificio di tanti soldati che anche in Friuli Venezia Giulia hanno dato la vita per la patria. L'Associazione Nazionale Bersaglieri compie 100 anni da quando si è etichettato il nome Associazione Nazionale Bersaglieri e con la Presidenza nazionale si è deciso di salutare un pochettino tutto il popolo italiano. Quindi questo medagliere del centenario sta facendo il giro di tutta Italia in questa settimana e qui in Friuli Venezia Giulia abbiamo iniziato due giorni fa da Trieste e intendiamo con queste visite fatte alle istituzioni simbolicamente salutare tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo iniziato con la Presidenza regionale, con il Comando Militare Esercito di Trieste, la Comune di Trieste, Comune di Gorizia, l'undicesimo reggimento Bersaglieri e oggi concludiamo con Pordenone e adesso partiamo, andiamo a Udine a salutare il popolo udinese. Tutto qua, un simbolico saluto e abbraccio dei Bersaglieri a tutti gli italiani. Accolti dall'amministrazione comunale in sala consigliare sono stati salutati con grande amicizia, stima e sincera gratitudine ed elogiati per il loro impegno nel promuovere attività culturali e sociali di grande valore a favore dei ragazzi, affinché anch'essi conoscano diverse figure importanti per la storia dell'Italia e riconoscano in tanti giovani eroi del passato dei modelli e degli esempi di valori attuali a cui ispirarsi. Ci stiamo dedicando anche a quello che normalmente si chiama il sociale. Non a caso abbiamo terminato proprio qui nell'ambito di Pordenone di concorrere con il progetto dell'ASFO e della regione Friuli Venezia Giulia, chi trova un amico trova un tesoro e abbiamo dato il nostro contributo in quella che è l'elemento fondamentale di questa iniziativa, l'inclusione da propagandare nelle scuole presentando un nostro eroe Enrico Totti che completa un pochettino tutti quei valori etici, morali che un uomo deve avere.